Abbiamo camminato sulle pietre incandescente, abbiamo risalito le cascate nel corrente, abbiamo attraversato decenni e continenti, ci siamo abituati a giudarmi mondamente, siamo stati pesce e poi non diretti dai mammiferi, abbiamo scoperto il fuoco e inventato il frigorifero, abbiamo preparato a mudare, poi a correre e poi a stare in modi. E poi a questo uomo, però stanno a quella cuore, vola a chiedere il formabile, pensiero nel volo dire, nessuno si insega, invoiamo la farina. Ci vuole pioggia, il vento, il sangue nel neve, pioggia, il vento, il sangue nel neve, il sangue nel neve, il sangue nel neve, il sangue nel neve, è una ragione per vivere, per sollevare il contempo, e non restare a piacermi, e innamorarti ogni giorno, ogni ora, ogni giorno, ogni ora di orari. di più, di più, di più, di più, abbiamo confidenza, cominciamo l'interiore, sappiamo che è un momento giusto, poi saltando fuoco, ci fanno dare braccia, non chiamiamo, sopiamo, non è muovo, è un mondo veloce, è un mondo veloce, è un mondo veloce, è un mondo veloce, non sono qui ancora, guardiamo, incontrano, pensiamo che volo qui, e sentite in sedia, vivendo la sanità. e non restare a compiagermi, e non restare a compiagermi, è una ragione per vivere, per sollevare le pappe a te, e non restare a compiagermi, e non restare a compiaggi, a condобрazione, a condонд duty, vi, più, patomma, vediamo abbiamo, insieme alla canale, e ci stai darud�, ci stai darudeno, adici intermedi obsessedi, questi مث cambiamenti, al secondo dei giocistini, abbiamo se presente qui sono lawyers ver exactly noi non restare interiore, che registro qui, Io ti metto, stai bene bene Grazie a tutti. Grazie a tutti.